La maculopatia può portare a della cecità? Sì, la maculopatia purtroppo è una patologia molto seria, molto grave. La cecità assoluta è un'evenienza magari non così frequente, però la maggior parte delle persone colpite, purtroppo quando questa degenera ed evolve nella forma sudativa, la forma più grave, sono persone fortemente meridate, che hanno una forte limitazione visiva, solitamente maggiore in un occhio rispetto all'altro, ma comunque hanno una grandissima limitazione delle loro normali funzioni. Si può guarire? Si può guarire, per certi versi, è possibile arrestare la progressione del danno. Se si arresta la progressione del danno, la visione può non essere alterata particolarmente. Magari il soggetto ha la sensazione di vedere un pochino meno in certe condizioni di luce, magari alla guida notturna, o percepire la perdita di qualche lettera quando legge, ma riuscire a svolgere le proprie funzioni lavorative. suçu